Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video ufficialmente possiamo dirlo sull'ottava generazione lo saprete non c'è bisogno che ve lo dico ieri è stata annunciata l'ottava generazione pokemon spada e pokemon scudo oggi per inaugurare questi giochi ho deciso di fare un video abbastanza tranquillo in cui daremo un'occhiata sommaria alla mappa in cui non andremo particolarmente nel dettaglio cosa che mi riservo di fare quando avrò sviluppato una teoria della quale ho già una pista oggi per l'appunto andremo semplicemente ad esplorare la regione della mappa che ci è stata fornita possibilmente associando le immagini del trailer a quelle della mappa innanzitutto la mappa penso sia palesemente ispirata al Regno Unito per due ragioni innanzitutto questa città che vi starò facendo vedere adesso che è palesemente Londra in secondo luogo perché ci sono dei fortissimi legami a mio avviso che questa regione ha con Kalos e l'Inghilterra ha sicuramente forti legami con la Francia ma questi legami li vedremo nel dettaglio come vi dicevo più avanti direi di iniziare la nostra analisi seguendo quello che ci dà il trailer per poi andare a ricapitolare il più possibile il tutto il trailer si apre con questo scorcio di una visuale di un piccolo borgo di campagna che secondo me è palesemente quello che vediamo qui dove vi sto zoomando in questo momento con la mappa gli edifici a destra e a sinistra combaciano mi sembra di intravedere quello che è un ponticello su un fiume che vediamo anche nella mappa e dunque direi che su questa immagine non abbiamo dubbi sarà questo il luogo in cui vedremo questa scena una volta comprato il gioco abbiamo poi questo edificio sul quale sfondo vediamo un mulino che ha sopra di sé questo pennacchio che meglio non saprei come identificare che rappresenta palesemente un flashling questo posto è ancora una volta a mio avviso evidentemente questo luogo particolare che vediamo sempre sulla mappa che vi starò zoomando in editing e che mi lancio in una previsione potrebbe essere tranquillamente il laboratorio dove otterremo uno dei nostri starter lo dico per il semplice fatto e già ve lo anticipo visto che ci siamo che ritengo la casa vicina a questo edificio il luogo dove inizieremo effettivamente l'avventura in sintesi casa nostra abbiamo poi questa ambientazione veramente particolare quella che sembra essere una sorta di distesa di spighe di grano con in mezzo a queste dei massi molto particolari che andrebbero analizzati più nel dettaglio e sullo sfondo questo stadio particolare di cui poi proveremo a dare un'interpretazione luogo che ancora una volta è evidente essere questo qui che vi sto zoomando direi che in questo caso almeno per ora non abbiamo altro da aggiungere ed eccola qui dunque la casa del protagonista il trailer ci fa capire che questo è il luogo dove inizieremo la nostra avventura fa uno zoom sulla porta che poi ci proietta direttamente nella nostra camera ecco questa casa qua mi sembra particolarmente simile se non identica a quella che vediamo qui nella mappa vicino a quello che ho supposto essere il laboratorio del professore ovviamente una cosa che non ho precisato queste mappe sono molto sintetiche molto abbozzate e non hanno sicuramente precisione quindi il fatto che ad esempio non ci siano le scale che vediamo nel trailer è da imputare verosimilmente a questo vi ricordo che la mappa di let's go aveva degli scogli che impedivano alla MN Anna di navigare giusto per farvi un esempio abbiamo poi questo squarcio molto interessante in cui vediamo questo lago abbastanza vasto a dirla tutta con di fianco questo edificio dalla colorazione violacea e di fianco all'edificio quello che sembrerebbe essere un campo di battaglia ebbene anche in questo caso non trovo particolari dubbi sull'interpretazione il luogo è questo qui che vedete zoomato ritengo però che questo posto qui possa essere una sorta di scuola per allenatori un po' come quella che abbiamo visto ad Alola anche se il fatto che si è isolata mi lascia un po' perplesso del resto però anche la scuola di Alola era abbastanza isolata da questo punto di vista dunque potrebbe comunque essere ok questo invece è uno dei luoghi più ambigui a mio avviso in questo caso abbiamo quello che sembra essere a tutti gli effetti un bosco avvolto da una folta coltre di nebbia ad una prima occhiata è molto difficile da dire potrebbe essere questa zona boschiva che vediamo di fianco a casa nostra anche se ovviamente questa soluzione è parziale e di certo non mi convince questo è sicuramente uno dei luoghi più ambigui dell'intero trailer vedremo in futuro che cosa ci riserverà Game Freak abbiamo poi questa città che già ve lo anticipo è la città dove si ambienta la scenetta in cui ci mostrano i tre starter e che è una città molto importante di cui andremo a parlare più avanti in questo video e più dettagliatamente probabilmente in futuro questo frame di questa città che sembra aver intrapreso un processo di tecnologizzazione particolare è sicuramente quella che vediamo praticamente al centro della mappa possiamo notare infatti sia gli ingranaggi all'interno di questa mappa che la torre che svetta sia nel trailer che nella mappa stessa torniamo poi con un altro frame del trailer allo stadio che abbiamo già visto in precedenza che possiamo riconoscere dal simbolo di quella che sembra essere una foglia che è visibilissimo sia nel trailer che nella mappa il trailer poi ci rivela un nuovo luogo con questa particolarissima scena in cui il nostro personaggio sembra avviarsi all'interno di un canyon innevato in uno stile che mi ha ricordato sinceramente molto il Monte Lanachila di Pokémon Sole e Luna anche in questo caso sono abbastanza convinto di aver individuato il luogo si tratta di questa particolarissima stradina che vediamo a destra della mappa nella zona innevata dopo quella zona in cui invece abbiamo quelli che sembrano degli iceberg o comunque delle rocce innevate che vengono fuori da un laghetto incomprensibilmente non ghiacciato saltando poi varie scene tra cui scene di cattura tra l'altro i Pokémon non sono visibili nell'overworld gravissima cosa che Game Freak non si doveva permettere di fare farò un video a riguardo anche su questa cosa saltate queste immagini andiamo ad un'altra scena di combattimento dove il personaggio sembra affrontare qualcuno o comunque in generale lanciare una Poké Ball in una zona dove per l'appunto sembrano spuntare delle parti di terraferma da un laghetto che anche in questo caso vista anche la neve attorno mi sento di individuare in quel laghetto di cui abbiamo parlato precedentemente e che precedeva il percorso precedente che frase? che frase ho fatto? abbiamo poi altre zone che intravediamo in delle parti di combattimento come ad esempio questa che è difficile da indicare perché in realtà all'interno della mappa non troviamo nessuna terra fra virgolette che sia di colore simile a questo potrebbe essere sia in questa zona in cui vediamo un altro stadio oppure in quella un attimino più in basso dove abbiamo poi un binario che sembra procedere all'interno di quella che è una miniera che poi andremo a individuare più avanti abbiamo poi quest'altra inquadratura in cui il personaggio sembra dirigersi verso questo edificio che ricorda molto i panteon greci anche qui vista la neve e vista la forma dell'edificio nessun particolare dubbio la zona è sicuramente questa qui nella zona innevata dove abbiamo quello che sembra un edificio molto simile a quello che abbiamo nel trailer ma stilizzato abbiamo poi quest'altro frame di cui avevamo già accennato precedentemente ossia questa miniera che mi ricorda molto la grotta dei bagliori di pokemon x e y che a mio avviso senza alcun dubbio quella miniera che avevamo per l'appunto visto in precedenza nonostante ci siano all'interno della regione altre zone che potrebbero essere interpretate come delle rotaie queste in particolare mi sembrano molto riconducibili a quelle che abbiamo nel trailer quindi anche qui il dubbio se c'è è sicuramente minimo beh questa zona qui che è evidentemente quella su cui si concentreranno tutte le teorie di questo mondo nonché le mie è ovviamente questa e qui non penso che ci possano essere proprio dubbi in assoluto ve la tiro via così breve questa perché non voglio spoilerarvi idee che sto avendo in mente non peraltro abbiamo poi questa immagine di un interno che ci tenevo a farvi notare solo perché credo possa essere il laboratorio del professore che vista la serra che abbiamo a sinistra ha purato che questo potrebbe effettivamente essere sul laboratorio potrebbe essere in questo caso una sorta di biologo o di studioso dei comportamenti dei pokemon di tipo erba non so la butta lì o magari legato a qualche strumento in particolare di questa regione che abbia a che fare con la botanica non lo so ovviamente sono interpretazioni e prima che parta la cutscene degli starter abbiamo questa immagine dove il personaggio sembra avviarsi all'interno di uno stadio che è verosimilmente se non ci sono colpi di scena uno di quegli stadi che abbiamo visto all'interno della mappa ora terminato di analizzare il trailer parliamo un po' in generale della mappa andiamo a riprendere anche quelle zone che forse non abbiamo visto parlando in generale della mappa la trovo molto 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 aperta vero è che non è open world però sicuramente ci fornisce degli scorci di paesaggio molto più ampi rispetto ai giochi precedenti ora all'interno della direct ci è stato detto che in questo gioco gli abitanti e i pokemon hanno collaborato per creare l'industria vi ricordate di quei lì cantichissimi che parlavano del contrasto tra innovazione e tradizione? ecco qui ce lo vedo ce lo vedo come ho detto nella reaction di Luke che ha caricato ieri sul suo canale nel contrasto tra l'industria che è stata creata dal genere umano e le campagne che sembrano permeare quasi completamente tutta la regione potrei scommettere con voi che la trama sarà incentrata proprio su questo e che il team malvagio possa da un lato tentare in un qualche modo di proseguire con l'innovazione dall'altro tentare invece di frenarla per tornare alle campagne che in questa mappa sembrano essere molto ampie guardate per dire questa zona qui che ho davanti ai miei occhi è praticamente un quarto della mappa ed è un lago gigantesco con un'intera pianura se poi lo andiamo a confrontare e colgo l'occasione per parlarne con la Londra perché questa è Londra che abbiamo a nord della mappa beh ragazzi mi sembra evidente ma dico evidente il contrasto tra tradizione e innovazione noto in questa mappa moltissimi riferimenti a una sorta di mondo medievale il che spiegherebbe benissimo i nomi dei titoli Pokémon Spada e Pokémon Scudo oltre a delle rovine medievali che vediamo in giro per la mappa abbiamo anche questa città qua che mi sembra letteralmente ispirata a una sorta di castello medievale che nel trailer non abbiamo visto ma che sicuramente presenta questo tipo di impostazione inoltre le mura in stile medievale le vediamo anche in altri luoghi ad esempio in questo buco in questa caverna non saprei bene come definirla che a mio avviso potrebbe essere tranquillamente una sorta di via vittoria rendendo quindi il Pantheon che vediamo nel trailer una sorta di lega Pokémon ma su questa cosa ho anche dei dubbi sotto questo luogo che vi ho appena citato abbiamo poi questo ponte sempre in stile medievale che non ve l'ho detto nel trailer potrebbe essere intravisto all'interno di un combattimento come abbiamo visto con altri luoghi ve lo dico adesso semplicemente perché mi è venuto in mente adesso fuori copione fuori tutto vabbè tra l'altro da notare come nella città medievale di cui vi parlavo prima abbiamo una corona gigantesca sopra la torre c'è da dire in realtà che di ponti poi ne avremo altrettanti ma sono più o meno tutti nello stesso stile potrebbe essere su questo ponte potrebbe essere su quest'altro ponte potrebbe essere insomma un po' ovunque abbiamo poi questa zona particolare dove abbiamo queste due rocce che sembrano formare un piccolo ponte questi alberi spogli una zona che mi ricorda molto se possibile il percorso a nord di luminopoli che avevamo nella regione di kalos una città portuale con stadio annesso e simbolo di tipo acqua che non ci dice molto sulla nostra destra un'altra città sulla sinistra con un altro stadio a questo giro verosimilmente con il simbolo della terra che è un'altra città verosimilmente dove però abbiamo due luoghi molto particolari sto parlando di questo e di questo due luoghi che sembrano essere molto simili a degli altari un po' come quelli che abbiamo visto in settima generazione che sia qui che sarà possibile evocare i leggendari potrebbe tranquillamente essere al centro poi di un bosco che anche in questo caso potrebbe essere questo posto all'interno del trailer ma non mi convince molto la cosa abbiamo un'altra città veramente stranissima con quelli che sembrano essere dei funghi giganti al suo interno e un altro stadio con un altro simbolo che penso a sto giro sia abbastanza incomprensibile considerando che il tipo erba l'abbiamo già visto nell'altro stadio e che il bosco mi sembra particolarmente tetro la butto lì potrebbe essere tipo spettro ma sinceramente da questa immagine non riesco a cavarne fuori nulla tornando sulla nostra destra abbiamo quest'altro edificio che sinceramente non so bene come interpretare non penso che possa avere un ruolo che oggi possiamo conoscere questo gigantesco arco di rocce con a destra quello che sembra essere un vulcano sotto il quale passa un treno quello penso sia un treno che ci porta a quella che sembra essere Londra dico che sembra Londra perché sembra esserci il Big Ben sembra esserci London Eye e in generale la città sembra essere l'Austropoli di questa regione molto tecnologica con una torre gigantesca al centro che potrebbe avere un ruolo importante per la trama ne parleremo più avanti e un altro edificio che mi sento di considerare una sorta di luogo per legare Pokémon della regione però anche lì sono solo ipotesi detto ciò credo di aver concluso quella che è stata l'analisi della mappa ovviamente senza andare troppo nel dettaglio riservandomi di andare nel dettaglio quando avrò le idee più chiare io spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato utile che vi abbia interessato se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace un commento un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed detto ciò ragazzi noi ci becchiamo in un prossimo video ciao 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 ciao